Oggi ci andiamo a giocare una partita con il Corsage, corazzata ibrida americana di livello 9 E' una nave che sinceramente mi lascia sempre pensare tantissimo Abbiamo una resistenza di 84.300 punti, protezione siluro, riduzione anno pari al 24% Assaltatori, abbiamo degli assaltatori che fanno veramente molto molto male Artiglieria poi, cannoni principali da 406 con un tempo di ricarica spaventoso, 36 secondi Abbiamo incursione aerea per attaccare i sommergibili fino a 10 km Difesa contra aerea, eccola qui, con numero di proiettili esplosivi in una salva ben 11 signori Manoprabilità estremamente lenta nel girare, veramente qualcosa di incredibile Mimetizzazione, veniamo spottati a 14.8 Mettete tutti i potenziamenti che il gioco vi suggerisce Tranne nella prima slot vado a garantirmi una riparazione che dura fino a 30.8 secondi E in ultima analisi, nella quarta slot, gruppi di volo modificati 3 Per aumentare la velocità e i punti vita e il tempo di preparazione dei miei velivoli Nell'ultima slot, piccola nota personale, anziché la ricarica andiamo sulla precisione Perché tanto non è che cambierebbe poi così tanto Meglio avere una precisione maggiore per tutta la partita Capitano speciale, ovviamente se riuscite a mettercelo tanto di guadagnato Perché si potrebbero attivare i talenti che ha, che mette a disposizione Per quanto riguarda poi il capitano, questo più che altro è un capitano test Perché ci metto specialista delle liberazioni d'emergenza, d'accordo Ingrassatore di equipaggiamenti, va benissimo Esperto in difesa con 3 adrianti sommergibile Va bene Scarica di adrenalina, va bene E poi qui si apre ovviamente tutta una serie di ragionamenti Che una persona può fare in base a quello che cerca dalla nave Io qui sono andato molto sulla resistenza Nozioni di base di sopravvivenza E ancora squadra di riparazione con preparazione migliorata Ancora addestramento per il fuoco concentrato Non vado a mettere esperto di occultamento Ecco perché la nave viene spottata a 14.8 E non metto prevenzione incendi Però ho la riparazione che mi dura di più Con il potenziamento, ricordate? E ovviamente esperto delle riparazioni d'emergenza La nave si presenta con delle torrette trinate a prua E delle torrette trinate a poppa Ha ovviamente un mini ponte di decollo Da dove decolleranno i nostri aerei E poi nella distribuzione della corazzatura Possiamo vedere come tutto questo fasciame superiore Sia di 19 mm e poi il ponte di 38 D'accordo? Quindi nel dettaglio questa è la corazzatura Della nave con la sezione trasversale E tutto il resto Con un rapido giro a 360 gradi Possiamo vedere anche i cannoni secondari Da 127 che sono sparsi un po' Ovunque I bonus economici sono tutti quanti blu Tranne questo Perfetto che mi ero scordato di mettere Perché forse era terminato E' fantastico Ovviamente cercate di mettere tutti quelli blu Per guadagnare il più possibile Ragazzi come sempre vi chiedo Un mi piace per supportare Il canale del Bunda E vi è un'iscrizione al canale Se ancora non l'avete fatta Tanti di voi guardano i miei video Ma ancora non sono iscritti Mi interessa una mano davvero incredibile Andiamo a vedere una partita Facile facile Giocata con il Corsage Vamos Siamo pronti a vedere una partita giocata Con il nostro Corsage Siamo in una mappa a quei settentrionali Modalità supremazia Commento in differita rispetto alla partita 5 corazzate 4 incrociatori E 3 cacciator penieri Vi posso garantire che sulla carta Loro sono molto più forti Rispetto a noi Questo posso saperlo Attraverso l'utilizzo Di WoVs Monitor Che è uno strumento esterno Che fondamentalmente Va a prendere Dai profili pubblici Qualora ci siano Dei vari giocatori Tutte le informazioni Rispetto al win rate Complessivo Dell'account E anche Delle singole navi Quindi esempio Davy ha il 60% Di win rate Complessivo Sul Corsage Ha il 64% Ora la butto lì Come numero E quindi appunto Si ha un quadro Della Bravura Delle due squadre D'accordo? E' così che funziona Essenzialmente WoVs Monitor In più vi da il danno medio L'esperienza media Il PR Vi da tutte le informazioni Del caso Purché il profilo Non sia privato E sia pubblico D'accordo? Importante Allora fondamentalmente Qui dobbiamo fare Non poca attenzione Come detto Abbiamo Allora Partiamo dal presupposto Che questa corazzata Ibrida Questa nave ibrida Spesso e volentieri La vedo giocare In delle posizioni Che sono O troppo in avanti O troppo indietro Servirebbe una via di mezzo Per far sì Che si possa giocare In tranquillità Appunto Con i cannoni Ma allo stesso tempo I nostri aerei Abbiano il tempo Materiale Di arrivare in tempo Nella zona di nostro interesse Quindi Diciamo che E' abbastanza facile Perdere l'orientamento Sul posizionamento Dettato da questo Cambio di attacco Cannoni E aerei D'accordo? Molto importante Dobbiamo anche dirci Che Qualora Ci fossero Meno cacciatore penieri E meno incrociatori Noi potremmo lavorare In maniera Ancora più Perfetta Perché Ovviamente Ci sono Il cacciatore penieri Di per sé E' un problema All'interno Della mappa Quindi bisogna Quanto meno Attaccarlo O dare una mano Ai propri alleati Per affondarlo Il più Velocemente possibile Ecco perché In questa circostanza Anziché andare a spottare Bravo Perché tanto dico Ok lo Zorky sta lì Il Gidansk sta lì Sappiamo che il Marsau Sta dentro Il settore di Bravo Perché sono tre Voglio dire Basta fare un semplicissimo calcolo Sulle navi disponibili In gioco E capiamo appunto Che il Marsau Si trancola In un certo In un primo momento Vado sul Gidansk Dico Il Kitakami Libero di cappare Tra l'altro Il Kitakami È una nave Molto particolare Anzi Estremamente particolare Perché è un incrociatore Di livello 10 Giapponese Molto brevemente Con la nave È una nave storica All'interno del gioco Nelle prime versioni Di World of Warships Dovete sapere Se non lo sapete Ve lo dico io D'accordo Che era disponibile E lanciava effettivamente 40 siluri Come fa tutt'oggi Però le meccaniche Erano diverse Di ricarica Dei siluri stessi Era un po' troppo Secondo me Avanti Rispetto a quello Che è il gioco odierno All'epoca andava bene Oggi non va più bene Il gioco è cambiato Eccetera L'hanno rimesso Ok Ed è una nave Che lancia Sì 40 siluri Però è una nave Molto debole È una nave Che può subire cittadelle Può essere devastata Ha il fumo E buttarla lì nel cap Pronti via Inizio partita È un bel rischio Quindi il giocatore Se la sta rischiando Non poco Perché il masso Con i 127 Con gli AP Potrebbe veramente Fargli non poco male Come vedete io qua Vado nuovamente Con gli assaltatori Perché dico Oh qua la situazione Dobbiamo un attimino Sbloccarla Andiamo di nuovo Nel settore Dove si trova il G-NASK Vi ricordo che il G-NASK Ha sia il radar Sia il fumo Fumo che Non dura tantissimo Come il radar Sono dei consumabili Veramente di utilizzo Rapido Poi andiamo ad attaccare Il destro Perché comunque A un certo punto Non ho il tiro materiale Sul cacciatore peniere Quindi sono costretto Ad attaccare L'incrociatore americano Purtroppo qui Andiamo a perdere Liwami Liwami è una nave Che personalmente Cioè che ci crediate o no Il mio record personale Di danni È con Liwami Trovate il gameplay Disponibile Sul canale Qui sfortunatamente Due perforazioni eccessive Due perforazioni eccessive Che potevano essere Tranquillamente Poteva essere un colpo Devastante Invece il gioco Ci ha fatto Dito medio Anche perché Probabilmente Il destra Ha dato potenza Alla nave E quindi insomma Si è andato A salvare Cosa che non riesce A fare il Napoli Perché viene One shotato Letteralmente Dalla Jean Bart B Se giocate in questo periodo I matchmaking Sono letteralmente Invasi D'accordo Da navi B Tutti quanti Stanno acquistando Durante il Black Friday Che è una cosa legittima Però spesso e volentieri I giocatori acquistano Senza sapere Le basi del gioco E quindi Vanno incontro A una difficoltà Maggiore Mi spiego Che cosa notate All'interno Della mappa Nei primi Cinque minuti Di partita Che siamo rimasti Fondamentalmente Soli Perché il Gering Era partito Anche piuttosto bene Devo dire la verità Perché ha attaccato Il Gidansk D'accordo L'avevano portato A 15.000 Da 28.000 Quindi 13.000 danni Se li è beccati Pure il Gidansk Però Qualcosa è andato Storto Ovvero La flancata Della Jean Bart Ha one shotato Il Napoli Abbiamo perso Il cacciatore Torpediniere Abbiamo perso L'Iguami Non ho ancora Ben capito come Risultato Di tutto Sto po' Di roba Che siamo Esattamente Tre navi sotto Nei primi Sei minuti Di partita Rimango Completamente Da solo Potete vedere In mappa Completamente Da solo Dietro c'ho Un Gidansk Che rompe Le scatole Il Dess Che rompe Le scatole La Jean Bart Che di certo Non si andrà A fermare Proprio adesso E in più Come se non bastasse Ciliegina Sulla torta Che a me Non piace La scanso Sempre D'accordo Sono gusti Arriva La Yamato Che ci spara Da C8 E in più C'è una montana Cioè della serie Signori Ma che cosa Sta succedendo In questa È mai possibile Che nei miei gameplay Non si può mai Essere tranquilli Per un minimo Di tre minuti E non si può Perché altrimenti Dove sarebbe il gusto Se non impazzisse Ogni singola partita Perfetto Come avete visto Abbiamo fatto 23.676 danni E siamo anche fortunati Mi verrebbe da dire Ad averli fatti Perché non ci sono altre navi Che posso colpire Di certo Non posso sparare A una montana di prua Di certo Non posso sparare A un cacciatore periniere Che si angola Quindi si gira Diventa molto complicato Il tiro Diventa veramente difficile Perché devo trovare Lo spazio giusto Per poter Appunto Colpire il cacciatore periniere europeo Di livello 10 Dall'altra parte Loro hanno Delle navi Posizionate nel seguente modo Lo Zorki Che dà un Quella nave Forse è una delle più fastidiosi In assoluto Perché fa malissimo C'ha la raffica È veloce C'è il capitano speciale Diventa ancora più di più immortale C'ha velocità Ultrasol Veramente Incredibile La squadra rimane bloccata Su alfa Questa è una situazione Abbastanza Non dico classica Però Abbiamo il cap Stiamo cercando di avanzare Quindi tutto sommato Non stiamo andando così male Come magari si potrebbe pensare Diciamo che non stiamo benissimo Perché abbiamo 280 contro 420 mila punti vita Qua andiamo a fare Attenzione Una giocata Che vi spiego Allora Quando andrete a spottare I cacciadorpinieri O la nave X I vostri aerei Non solo faranno la classica Mitragliata D'accordo Ma in più Durante Questo momento Riuscirete a tenere Spottata La nave Per un breve lasso di tempo Ebbene Quando voi State attaccando Che fanno una mitragliata Sparano con le mitragliatrici Ok I vostri aerei Tornate rapidamente Sulla vostra nave E potete sparare Con i cannoni Quello che ho fatto io Infatti Il cacciadorpinieri Prima l'ho attaccato con Gli assaltatori D'accordo E subito dopo Proprio due secondi dopo Neanche Ero pronto Ad attaccare Con i miei cannoni Se volete fare una cosa Proprio ancora più precisa Ancora più bella da vedere Potreste puntare i cannoni Nella direzione che serve Li lasciate puntati D'accordo E a quel punto Semplicemente Scusate Andate a Ad attaccare Il Il nemico È una cosa che non è facile da fare Perché bisogna essere Particolarmente rapidi E in più il nemico Deve essere su una linea Di tiro pulita Non è che sta dietro l'isola E quindi fa questa cosa Perché non si potrebbe attaccare Qui molto bene Il Kitagami Che va a beccare Il John Bart Con i suoi Siluri Dopo Diciamo che Alla fin fine Ne lancia tanti Come minimo Dovrebbe Beccarlo E distruggerlo Ci siamo presi un bel danno Dalla Montana E noi Siamo rimasti con 17.120 punti Se considerate anche il fatto Che abbiamo fatto solo 45.000 In totale Però come detto Loro stanno spingendo Molto bene La Shade Qui il numero delle cariche È aumentato Perché Abbiamo tancato Oltre 2 milioni Di danni Come vedete qui Ancora una volta Quello che ho detto prima Se ieri passano vicino E riescono a spottare Avete la tempistica Per poter poi Attaccare il nemico Qui purtroppo Lui si va a fermare Pensavo che Avrebbe fatto Un movimento più Rapido in avanti E invece mi manda I proiettili Totalmente in vuoto A vuoto Dobbiamo anche dirci una cosa Che su Alpha Come detto Nonostante Non sia totalmente Convinto Della situazione Dobbiamo dirci Che abbiamo il cap Le navi sono vive E quindi Insomma Continuiamo a mantenere Una presenza Abbastanza Interessante Quello che si è preso Più danno di tutti Penso di essere stato io Perché ripeto Ancora una volta Stavano scendendo Come dei treni Su Charlie Piccolo appunto Personale Se il loro Gidansk Fosse stato Un po' più Secondo me Aggressivo Nell'inseguirmi O nell'allargarsi Mi avrebbe messo in difficoltà Voi immaginate Il Gidansk Se fosse andato Nel settore Di I8 Con io Che continuavo a scappare Mi avrebbe potuto Continuare a sparare Non potevo Contrastarlo efficacemente Sparo ogni 36 secondi Ogni 33 secondi Siamo scesi Quello che sia D'accordo E in più I nostri aliati Sono su Alpha Quindi il Gidansk Loro sarebbe stato Completamente Libero Di fare Quello che Voleva Allora ragazzi Come sempre Se siete giunti Fino a questa parte Del video Metà video Fondamentalmente Vi invito A lasciare un mi piace Al video stesso Per aiutare Non solo la crescita Del mio canale Youtube Che ormai va Per i 10 anni Di anzianità 10 anni sono davvero tanti Ma anche Per aiutare Un gioco Che porto Con tanto Interesse Ormai Da tanti anni Quindi aiutate Fondamentalmente La community Del gioco Vedete qui l'errore L'errore clamoroso Perché i cannoni Non erano pronti Stesso discorso Che ho fatto prima Lo andiamo a spottare Con l'assaltatore Abbiamo ancora qualche secondo Per poterlo vedere Io Solo adesso Ho il tiro Provo lo stesso Perché so che In quella zona E quindi ci proviamo Dobbiamo anche dirci Che il Petro Insomma Era a pochi passi Quindi il radar Poteva farlo Vagamente prima Ciononostante La kill Ce la prendiamo Perché con il nostro Sesto senso Abbiamo intuito La sua posizione ultima E quindi insomma Ce la portiamo a casa E siamo tutti quanti Più felici La domanda Che sorge spontanea È la seguente Se noi avessimo avuto Un'altra nave D'accordo Avessimo avuto Non lo so Una nave che non ha Assaltatori O una nave Non ibrida Come si sarebbe Evoluta la situazione Perché a quel punto Noi cacciatori per ieri Non potevamo vederli A meno che Non ci sarebbe stato Non ci fosse stato Un errore Da parte dei loro Cacciatori per ieri Quindi loro Vanno troppo avanti Si fanno spottare Errore Oppure se i nostri Cacciator penieri O quello che sia Appunto Erano abbastanza vicini A spottarlo In definitiva Se io non avesse avuto Gli assaltatori Non avremmo Visto Ne ora Ne mai I loro cacciator penieri Questo avrebbe complicato Di più Ovviamente Tutto il processo Del gameplay stesso Spero che abbiate Spero che abbiate messo Mi piace Perché insomma Nonostante io Puntualmente Quando registro Succedono due cose Mi vengono colpi di tosse Il naso E poi Messaggi infiniti Io voglio registrarmi Perché per favore Non è chiaro Voglio lavorare In tranquillità Voglio registrare In tranquillità Quindi non Mandatemi messaggi Sto parlando In maniera Stratta D'accordo Però per dire Succedono queste cose Io puntualmente Dico Ma porca miseria Quando devo registrare Succedono sempre queste cose Andiamo sulla montana Allora Gli assaltatori Abbiamo parlato poco Degli assaltatori Anzi Ho parlato il giusto Rispetto a quello Che possono e devono fare Però Il danno Concretamente Qui il Minotaur Fa un movimento Alquanto discutibile Davanti ai miei 406 E infatti Lo facciamo implodere Manco fosse un fuoco D'artificio Praticamente Del nuovo anno Tripla cittadella Colpo devastante E qui la partita Assume un altro Significato Gli assaltatori In sé Non solo servono Per spottare In caso Ci sono sti problemi Qua dei cacciatori Pigneli Ma riescono Ad essere Particolarmente Efficaci Contro le navi nemiche Raga Razzata L'incrociatore Diciamo che La media Potrebbe andare Dagli 8000 Ai 12000 Danni Se ovviamente I razzi Riescono ad andare Tutti quanti Sul bersaglio Quindi è una media Tutto sommato Non da sotto A valutare Anche qualcosina In più De 18000 Però lì dovete Preopro prendere Ogni singolo razzo Deve andare A segno Sono Da colpire Maggiormente Corazzate Se riuscite Poi non lo so Inglesi Francesi E giapponesi Le tedesche Sì Perché comunque Magari Sono settate A secondaria E quindi Vanno a soffrire Da quel punto Di vista Evitate Navi che hanno Un'antiera Troppo potente Scontato da dire Però considerate Che l'integrità Tutto sommato È Molto Limitata E quindi Voglio dire Insomma Rischiate Che non arrivano A meno che Non vi servono Quei 5 secondi Di spot E allora Sti cavoli Perché sapete Che poi la squadra Prende e attacca L'avversario Qui purtroppo Vedete Io decollo Vado Ad attaccare In realtà No Non vado più Con gli assaltatori Sì vado con gli assaltatori Potevo anche Farli rientrare Perché sono a mezzo metro Sono a 6 km Con full Salva cannoni Da 406 Spariamo Nel lato del Castiglia E ovviamente Dito medio Quanto una casa 8 perforazioni eccessive 1 perforazione 14.800 Poteva tranquillamente Darmi il colpo devastante Il gameplay avrebbe avuto Un altro sapore Avrebbe avuto Un altro senso logico Di esistere D'accordo Così vi ho fatto vedere Quello che volevo farvi vedere Ovvero L'utilizzo dei assaltatori Però sai Due devastanti Sono più belli Rispetto a uno Ci accontentiamo Va benissimo La nave di per sé Ripeto È complicata Perché Si Può Mettere In delle situazioni Spiacevoli Ora qui La situazione spiacevole È venuta A bussare La nostra porta Perché eravamo inseguiti Da metà Insomma Flotta Avversaria Però ripeto Un pochino più avanti O un pochino più indietro Sta nave Non serve assolutamente a nulla Dovete cercare La posizione Quanto meno Più corretta possibile E non è facile E non è facile Perché il posizionamento In mappa Fa l'80% Del gioco Io qua Provo a sparare Perché la posizione Nota Dello Zorki Era in C1 Ho detto Va quasi quasi Provo a sparare Vediamo se riusciamo A prenderlo Tra l'altro Qui succede Una cosa Anche piuttosto simpatica Me ne sono accorto adesso Scusate Si è buggato il replay Perché ovviamente Siamo noi Che abbiamo Mille punti E non L'avversario Lo dirò anche Nell'introduzione Però Questo è un problema Del replay Che puntualmente Ogni tanto Prende e si bugga Di sua iniziativa Non lo so perché Abbiamo portato a caso Un milione e mezzo Di crediti Non sono pochi 133 mila danni Si poteva fare Molto di più Punteggio squadra L'abbiamo fatto 2042 C'erano anche Navi di livello 10 E una super nave Noi siamo una nave Pur sempre di livello 9 Quindi ricordiamo Questo dato importante A fine partita Ho fatto più uno All'Halland E poi Insomma Anche Gli Amagiri E Defense Hanno giocato Abbastanza bene Rapporto dettagliato Abbiamo fatto male Ai cacciator penieri Il giusto 7000 E poi 2007 Ripeto ancora una volta Se non avessimo attaccato I cacciator penieri Ditemi voi Come sarebbe finita La partita Molto male Crediti Levate le varie spese Portiamo a casa Un milione e mezzo Pulito pulito È molto facile Commettere l'errore In cui la nave È troppo vicina O troppo lontana Dalla battaglia Serve una via di mezzo In modo tale Che possa attaccare Laddove è necessario Ovviamente Non solo con gli assaltatori Che arriveranno in tempo Sul luogo dove servono Ma anche con i cannoni Come avete visto Durante il gameplay Se non avesse avuto Gli aerei Ripeto ancora una volta Non avrei potuto attaccare E distruggere I loro cacciator penieri Ragazzi Il video è terminato Come sempre vi ringrazio Per anche i commenti E le visualizzazioni Noi come sempre Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.